Ma quindi, come va, signora? Ehm, come si dice in parole povere che non ricordo? Ah sì, che sei in ritardo! Sono un uomo d'affari, un intellettuale del mondo contemporaneo, so come funzionano le cose E so come funziona il rispetto, cosa che lei, quel giorno, ha totalmente snobbato Già, da fastidio Some of them want to use you Some of them want to get used by you Some of them want to abuse you Some of them want to be abused Come on, 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 come